Una delle figure femminili che vedremo rappresentate l'8 marzo alle ore 21 al Teatro Scottorchi in Se non si osa nulla, non si può vincere nulla, è Fatima Miris. Fatima Miris era rimasta colpita quando era piccolina da uno spettacolo di Leopoldo Fregoli e ne seguì con successo le orme ed ancora oggi è ricordata per la sua abilità nel trasformismo scenico che le consentiva di cambiare in pochi secondi la caratterizzazione del personaggio che andava ad interpretare. Cambiando anche tono di voce, abiti e ogni sorta di accessori. Suonava il violino con la sinistra, il corno con la destra, il mandolino non si sa bene come. Padrona di cinque lingue, possiede quattro timbri di voce, canta da soprano, contralto, baritono, tenore. Ed ammirandola a Parigi, Londra, Berlino, Egitto, America, Cile, Paraguay, Messico, ovunque. Famosa per la sua attraversata del rio delle Amazzoni con i 63 cassoni pieni di abiti, scene, parrucche. Beh, insomma, vi ha un po' incuriosito Fatima Miris. Allora, venite l'8 marzo alle 21 dal Teatro Ottorchi. Se non si osa nulla, non si può vincere nulla.